Un benvenuto a tutti sul mio canale. Questa notizia è una last minute. Jean Yaman li ha donati tutti. Che cosa direte voi? Ecco i dettagli. Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Questo video tratta di un famoso attore turco Jean Yaman e della sua attività benefica che ci tiene sempre a fare. Il bel attore Jean Yaman, grazie al suo profumo mania e con la collaborazione fatta con Marlou per il progetto natalizio, ha guadagnato ben 90.000 euro e come aveva dichiarato in precedenza, questi soldi gli avrebbe dati appunto in beneficenza. Agli ospedali pediatrici in Italia, per mezzo della sua organizzazione di beneficenza chiamata Jean Yaman for Children, ha realizzato una campagna prima del nuovo anno con lo scopo di devolvere tutto il ricavato agli ospedali pediatrici di Roma. Jean Yaman ha raggiunto un importante traguardo di raccolta fondi grazie alla vendita del suo profumo mania durante la campagna natalizia, che gli ha permesso così di raccogliere 90.000 euro. Non contento del risultato ottenuto, l'attore ha deciso di donare ulteriori 150.000 euro a beneficio dei bambini ucraini affetti da sindrome di Down e le loro famiglie che vivono in Italia a causa della guerra. Il gesto è stato molto apprezzato dagli italiani, tanto da proporre di conferirli un apprezzamento ufficiale ed alcuni si sono anche allargati proponendo addirittura di erigere una statua in onore di ciò che stava facendo per loro. Spero che il mio video ti sia piaciuto, che questo last minute ti abbia aperto un po' il cuore. Non dimenticare quindi di mettere il like ed iscriverti al canale per supportarmi. Al prossimo video amici! Al prossimo video amici!